Marco Baroni, dopo il primo test amichevole vinto domenica scorsa per 6-0 contro gli spagnoli De Liberos, è stato chiaro. Mancano ancora 7-8 giocatori per completare la squadra. Queste le dichiarazioni del tecnico Biancazzurro che hanno causato una positiva reazione da parte della società. Il DS Peppino Pavone, infatti, nelle ultime 36 ore, ha effettuato due nuovi acquisti. Il primo è l'attaccante Federico Melchiorri, che ieri ha superato senza problemi le visite mediche. Il secondo acquisto è Raffaele Puccino, laterale destro difensivo che arriva in prestito dal Chievo Verona con la metà del cartellino di proprietà del Sassuolo e che a breve raggiungerà i compagni di squadra nel ritiro di Boario. Ritiro che ieri ha colto altri due volti nuovi provenienti dalla Juventus, il portiere Vincenzo Fiorillo ed il centrocampista Gabriella Pelpires. Oggi sarà il turno dell'islandese Birkir Bjarnason e di Francesco Dettori. Nei prossimi giorni toccherà a Lorenzo Venute, i 19enne proveniente dalla Fiorentina. In sintesi, Baroni avrà a disposizione almeno sette giocatori per ultimare la fase di preparazione in Valcamonica, un segno importante che testimonia chiaramente l'ottimo feeling tra tecnico e società nella costruzione della nuova squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B. A breve verranno acquistati un terzino sinistro ed un centrocampista per completare definitivamente la rosa. Nel mirino ci sono l'ex Empoli, Flavio e soprattutto uno dei pupilli di Baroni, l'austriaco Marcel Buchel. La Juventus, proprietaria del cartellino, vorrebbe infatti inserire l'ex Mezzala del Lanciano in qualche trattativa con altre società di Serie A. Il Pescara quindi attenderà l'evolversi della situazione per poi far partire l'assalto. In tutto questo, Baroni si dice soddisfatto per queste prime settimane di lavoro. La costruzione del Pescara che verrà continua.